I settori che tirano di più certamente c'è il porto, il porto lo abbiamo visto già anche nei dati degli scorsi mesi, sta chiaramente trainando in maniera forte la città, c'è il dato del turismo che è un dato che ormai si consolida e che dimostra che questa città ha una vocazione chiara di attrattività per il turismo e tra l'altro all'interno del turismo quello che è rilevante sottolineare è che abbiamo un 45% di presenze straniere, quindi è anche un turismo che sta portando un'internazionalizzazione di questa città, la sfida è quella di attrarre sempre di più turisti ed attrarre sempre di più una città che ha dei contenuti di bellezza e di piacevolezza ma anche dei contenuti tecnologici e portare a venire a investire da fuori in questa città, quindi il turismo, il porto e questi dati ci danno la possibilità di dire venite in questa città, venite a investire perché è una città che ha veramente dei contenuti sia culturali, artistici sia dei contenuti industriali su cui scommettere. Il dato che ieri è stato comunicato a Finmeccanica dell'acquisizione da parte del terzo operatore mondiale e i taci di ISTS ci dice che oltre a una dinamica chiaramente macroindustriale del paese ma che questa città è ancora in grado di essere centrale per operatori mondiali e questo su cui noi dobbiamo investire sia nell'ambito della portualità, sia nell'ambito della grossa industria, sia nel tessuto delle piccole imprese e nel raccordo con l'Istituto della Tecnologia e l'Università. Quindi dati su cui chiaramente bisogna stare sempre sul pezzo, non sono dati a doppia cifra, sono dati su cui bisogna lavorare intensamente perché non ci fanno essere completamente ottimisti ma ci fanno dire che appunto in questa partita tra il Mugugno e la città che lavora, la città che lavora sta iniziando a intercettare dei dati positivi. Da questo cruscotto chi produce, chi lavora, chi con fatica porta avanti questa città ha un dato positivo perché siamo usciti finalmente dalla fase deflattiva quindi abbiamo un'inflazione contenuta, 0,4% per cui non crea problemi all'incremento dei prezzi e ai mutui ma che ci dà invece l'idea che è la consistenza numerica che la città è ripartita e uscita dalla fase deflattiva. Abbiamo un aumento dei livelli occupazionali, sempre molto contenuti ma abbiamo un aumento dei livelli occupazionali abbiamo anche in controtendenza rispetto ai dati anche del nord ovest una crescita delle nuove imprese quindi tre dati sintetici ma che ci dicono che questa città è una città con potenzialità, con una vivacità, chiaramente con tante ancora difficoltà c'è il settore in particolare del commercio che vive ancora una fase di decrescita di attività, il settore dell'edilizia sono i due settori che maggiormente soffrono però la città nel complesso, nei dati macroeconomici, è una città viva, è una città vitale su cui chiaramente l'amministrazione deve agire insieme al mondo delle imprenditorie, al mondo della ricerca per trovare le nuove occasioni di sviluppo ma il tessuto è vivo ed è vitale.